Io mi chiamo Maria Teresa Marsi, mi scuso sin d'ora, sono piuttosto influenzata, quindi se ci fosse qualche colpo di tosse, sono molto contenta di essere qua e direi che adesso iniziamo con questa lecture che ha delle parti più formali, poi capirete il perché, e delle parti in cui io sarò più in mezzo a voi. Se ci fosse il tempo, alla fine avrei molto piacere di una breve interazione con voi, qualora qualcuno avesse domande al limite. È vicino all'acqua che ho meglio compreso che il fantasticare un universo in espansione, un soffio di odori che fuoriesce dalle cose per mezzo di una persona che sogna, Gaston Bachelard, un soffio di odori. Questa citazione di Bachelard non è casuale e costituisce una sorta di filerouge fra la mia formazione, che è più accademica, e il mio fare. Io sono una psicologa, psicoterapeuta, ipnotista in particolare, e mi occupo anche di branding. Molto spesso nel linguaggio ipnotico si usa appunto un linguaggio che è evocativo, che è anche poetico qualche volta, e l'utilizzo del canale olfattivo è importante, è importante in ipnosi e nelle terapie in generale. Attraverso quello, ad esempio, riusciamo a fare in modo che le persone elaborino traumi, oppure ricordino esperienze lontane, ma purtroppo traumatiche. Dunque, i motivi per cui sono qua sono di ordine differente. Innanzitutto professionale, come vi accennavo, perché è un qualcosa che peraltro io amo fare, faccio formazione, quindi essere in aula non è una cosa nuova per me. Perché ho sempre studiato l'olfatto, sin dai tempi dell'università ci ho scritto una tesi, poi ho continuato a studiare, a scrivere, a pubblicare di questo. E sicuramente per una motivazione personale, cioè sono una persona che utilizza il canale visivo e quello olfattivo, e anch'io, come tanti di noi credo qui, sono sempre alla ricerca del profumo perfetto, quello sublime per me. Però vorrei darvi qualche indicazione proprio sulla struttura del sistema olfattivo. Può sembrare, spero, non sia troppo pesante o pedante, però sono elementi di cui si parla in modo così popolare, ma non si capisce bene come mai l'olfatto sia un senso così legato alle nostre emozioni. La memoria olfattiva è una memoria dimenticata. Essa è inconsapevole e archivia gli odori attraverso una percezione globale che risponde al principio tutto o niente. è inconsapevole, lo è anche per, ad esempio, i bambini, tanto che il primo odore che noi conosciamo e riconosciamo è quello della mamma. E, altra cosa importante, gli odori vengono archiviati in memoria o non lo sono affatto, non è che un odore lo ricordiamo un po' sì o un po' no. Quando è degno di nota per noi, e poi vedremo tutto mediato dal sistema limbico, ovviamente, avviene una sorta di archiviazione. Questo è uno studio abbastanza adattato di Engen. Trig Engen è stato il più noto olfattologo, scomparso nel 2009, e tutti noi dobbiamo molto a lui. È stato uno studioso straordinario. Un odore, una fragranza, viene memorizzata unitamente al contesto e alle emozioni. Noi oggi parleremo di emozioni, innanzitutto. E questa memorizzazione avviene attraverso diversi canali sensoriali. Quindi, questo cosa fa supporre, questo è un altro esimio studio di Gottfried, che tutto ciò venga immagazzinato in aree cerebrali diverse. In particolare, il sistema limbico e la corteccia prefrontale. Ecco. Noi abbiamo un odore, ma potrebbe essere una fragranza. Una fragranza è ancora meglio, perché è consapevole. Quindi, la trasmissione, tenete presente, è velocissima, rapida, e passa attraverso il bulbo affattivo, il sistema limbico, o cervello odorante, e la neocorteccia. Quindi, tutto questo che a noi sembra oggettivamente complesso, e lo è, lo è molto, perché non sappiamo ancora tutto dell'olfatto, in realtà ha dei tempi molto, molto apidi. Bisognerebbe fare, è il caso di dire, un elogio del sistema limbico, perché è quello che fa un gran lavoro per noi, per l'olfatto e per molto altro. un odore, una fragranza anche, viene memorizzata unitamente al contesto, all'ambiente e alle emozioni in cui viene sentito. Gottfried l'abbiamo già visto, però... Il sistema limbico è il luogo in cui le nostre emozioni arrivano, e dove vengono elaborate e modulate. È lì che noi capiamo se nel caso delle fragranze ci piace o non ci piace. Se non ci piace, non viene neanche archiviato, oppure viene archiviato come un cattivo odore, una cattiva fragranza. Ma, d'altronde, se noi pensiamo anche solo in letteratura, il famoso sapore, odore, scusate, di Madeleine, che è il tipico dolce francese, lui ne parla, ne parla diffusamente, quello rievocò in lui un ricordo dell'infanzia. Quante volte sarà capitato a molti di noi? Ecco, questo è uno schema, direi, essenziale, non è un pointer questo, essenziale del sistema limbico, che comprende grosso modo l'amigdala e l'ippocampo. Vedete che la trasmissione parte dal bulbo olfattivo e poi sale in questo sistema limbico, che va a formare quasi una cinta, diciamo così. È il nostro cervello antico, è una parte di quel cervello, quindi non solo l'olfatto, ovviamente, ma tutte le emozioni primarie passano da lì, la rabbia, la tristezza, la felicità, vengono poi mediate e modulate e poi noi riusciamo a dare un nome a quell'emozione. Quando una fragranza ci piace, essa arriva al nostro cervello odorante, lasciando una traccia che resiste nel tempo. Talvolta essa è indelebile. Su questa frase quasi poetica, in realtà ci sono stati moltissimi studi. E cosa affermano? Che le tracce noi le immagazziniamo, poi non sappiamo quanto rimarranno. Però qualche volta, soprattutto quando queste fragranze o questi odori sono collegati ad alle emozioni, sono tracce indelebili. Cioè, molti anni dopo, può capitare di sentire una fragranza, un profumo, e si riapre, ad esempio, un capitolo importante della vostra vita. Ecco. Qui arriviamo ad una prima dimensione multisensoriale. Se l'esperienza è multisensoriale, cioè, se alla fragranza il nostro cervello riesce ad associare altro, cosa intendiamo con altro? La vista, un ambiente accogliente. L'udito, una musica intonata, nel senso di coerente con il brand. Allora, quel cliente tornerà per acquistare, o anche solo per avere un'esperienza sensoriale unica. È questa la differenza che il multisensorial branding fa rispetto al resto. È una tendenza che si sta diffondendo un po' in tutti i campi, che variano dalla grande distribuzione alla nicchia, e ovviamente non solo nel settore delle fragranze, nell'abbigliamento, qualche volta nell'arriamento, nell'enogastronomia. Diciamo che voi, non so quanti ci siano di voi che abbiano strettamente a che fare con store, piuttosto che boutique, negozi, monomarca, voi avete la possibilità davvero di creare degli ambienti multisensoriali straordinari. Quindi perché una persona potrebbe tornare da voi? Perché sperimenta benessere. Questo è il quid o il plus valore che dir si voglia. Ecco, il senso di branding, o branding multisensoriale o sensoriale, è una forma di marketing non tradizionale, che si avvale di almeno due dei cinque sensi, e li associo ad un brand per attrarre il cliente. Non riusciamo sempre a utilizzarli tutti e cinque, anche nel mondo delle fragranze. Adesso io ve ne sto parlando in termini sostanzialmente generici, ma poi ne parleremo in modo più dettagliato e declinato nel vostro contesto. E vedremo che già voi vivete immersi in fragranze, in profumi, che è l'80 al 75% di ciò che fa scaturire emozioni nelle persone. molti brand di abbigliamento usano, e ci avrete fatto caso, delle fragranze costruite su misura, e quello, secondo degli studi di neuromarketing, già trae il cliente per il 75%. Quindi, perché ci sono delle risposte del sistema nervoso centrale a questo. Il senso di branding si declina in due momenti differenti. La messa a punto del prodotto, dal punto di vista del design e del packaging, e l'allestimento dello spazio commerciale. Lo spazio commerciale spesso è contiguo alla sede aziendale. L'ho visto in diverse realtà di fragranze di nicchia. E quindi è giusto creare quella giusta atmosfera che faccia stare bene a una persona. Un senso di benessere. Poi andremo a dettagliarlo meglio. Ecco. Sono ridondante, ma un brand deve avere una personalità ben definita e quindi riconoscibile. Questo io lo ripeto sempre come un mantra, perché soprattutto nelle realtà di nicchia, e più il brand è di nicchia, addirittura di lusso, e più questo deve essere. Dove deve esserci una personalità sostanzialmente scolpita, riconoscibile. Vediamo come il senso di branding può essere utilizzato, genericamente parlando, in modo dettagliato per ciascun senso. Ovviamente la vista, che è il senso più usato nel marketing, il cliente vede e conosce le forme, i colori e i materiali. E la vista ha molto a che fare con la luce, ne parleremo poi delle luci, sono fondamentali. Se noi pensiamo ad una corrente artistica che tutti noi, penso, si conosca, gli impressionisti, vediamo come uno stesso soggetto, ritratto con luce naturale diversa, in momenti della giornata diversa, la cattedrale di Juana, mi viene in mente in questo momento, cambia aspetto. Quindi anche la luce in uno store, possiamo vederlo qui, ma anche in esterno qui a Dexens, è essenziale. E le forme, i colori e i materiali. Se noi pensiamo ad un prodotto iconico, oggi qui io non vi citerò prodotti del vostro ambito, proprio per una questione di politicamente corretto. Farò solo qualche esempio tratto da altre realtà. Ma se dovessimo citare, ad esempio, la Coca-Cola, che è un brand riconosciuto a livello mondiale, cosa ne sarebbe di quella lattina senza quel brand, se noi lo scorporassimo proprio. E i materiali sono iconiche, le lattine, le bottigliette, la Coca-Cola. L'udito è un suono evocativo di sentimenti e stati d'animo e può influenzare la percezione e l'esperienza del brand da parte del cliente. Quindi, una musica di sottofondo può agevolare, predisporre all'acquisto. Se noi pensassimo, ad esempio, al nostro, e mi riferisco soprattutto alle signore, ad un film d'amore, cosa sarebbe quel film senza quella famosa colonna sonora? Io penso a Nuovo Cinema Paradiso, che la presenta alla scena finale, quella del bacio, la colonna sonora di Morricone, che è un grandissimo maestro dei nostri tempi, è stata proprio definitiva nel determinare il grande successo. Il connubio vista-udito è più usato nel senso di branding. Come dire, fino a qui ci si arriva più o meno tutti. Perché i prodotti li vediamo, vediamo il packaging, possiamo utilizzare della musica, poi vedremo come. Il tatto. Noi iniziamo la nostra vita aggrappandoci nel seno di nostra madre e siamo certi di essere amati se lei ci accarezza e ci ama. Quindi abbiamo questa, non solo, andiamo a conoscere il mondo esterno proprio attraverso il tatto. I bambini toccano tutto. L'interazione tattile permette al cliente di entrare in contatto con il prodotto e al prodotto di farsi conoscere. Materiale, peso, comfort del prodotto sono variabili che devono essere ben calibrate. Il gusto. È di solito utilizzato nel branding di cibi e bevande e di recente impiegato anche per brand di altre categorie. Gusto e olfatto sono correlati. Tanto che quando abbiamo un raffreddore, un'influenza, io oggi potrei confermarlo, noi perdiamo circa l'80% della nostra capacità olfattiva. Quindi il senso di branding declinato nel vostro contesto per quanto riguarda il gusto è più delicato. Perché c'è un problema di saturazione di molecole, volate, di cui tra poco parleremo. Arriviamo appunto all'olfatto che in assoluto dopo la vista, questi sono studi recenti del 2012, è il secondo dopo la vista nel branding multisensoriale. Cos'è il neuromarketing? Il neuromarketing è quella scienza, ci sono stati studi imponenti che conosco, che va a studiare come risponde il nostro sistema nervoso quando vediamo qualcosa. Appunto nel branding, quando i soggetti vedevano determinati prodotti, quale area cerebrale si attivasse. Questo è fondamentale capirlo. Ma è una parte, perché noi non siamo solo il sistema nervoso, non siamo solo il cervello, la nostra mente è più complessa. Secondo gli studi di neuromarketing, il 75% delle emozioni sono innescate dagli odori. Gli odori e profumi vengono utilizzati nel branding sensoriale per vendere i prodotti tra i più disparati. Adesso tocchiamo un punto così, un passant, che è delicato e generico, che è, diciamo, l'identità delle vostre aziende. L'identità di un brand si costruisce attraverso la comunicazione che quell'azienda fa e questo va a determinare l'immagine dell'azienda stessa. Detto così, sembra, è un'iper-semplificazione, ovviamente, perché sono state scritte, sono librerie intere su questo argomento. Però, questo determina la brand awareness, che è la consapevolezza, la riconoscibilità del brand. Prima di arrivare a queste domande, vorrei fare un inciso sul vostro mondo delle fragranze, dicendo che quando un cliente acquista una vostra fragranza, in fondo, acquista anche una parte del brand. È una proiezione del vostro brand che voi dovreste offrire al cliente. In qualche modo lui dovrebbe entrare a farne parte. Queste sono delle domande assolutamente banali, che però fanno la differenza anche in termini perdonate di fatturato. Perché scolpire l'immagine di un brand significa poi capire come fare comunicazione e soprattutto determinare il target. Quindi, quanto c'è di voi nel vostro brand? Che percezione avete di esso? Pensate di riuscire a comunicarla? Perché magari si ha un'idea del proprio brand, ma è difficile raggiungere un determinato target. E in questo periodo il mercato pone delle sfide particolari. Non raccoglierle non dà molte grandi alternative. Quindi, bisogna proprio focalizzare l'ultima e la più importante di tutte insieme alla prima. E cioè, sapete chi è e chi vorreste che fosse il vostro cliente. Perché poi tutto il resto, parlando anche di packaging, appunto che sono flaconi, adesso li vediamo, dipende proprio dalla risposta che voi darete a queste domande. Questo materiale poi credo sia tutto disponibile, per caso. Cosa è importante? Creare cultura. Il mondo delle fragranze di nicchia è ancora percepito come, fatemi dire, esoterico, cioè riservato a pochi. Creare cultura circa il vostro saper fare, l'artigianalità, piuttosto che, è essenziale. Anche perché il cliente entra idealmente in qualche modo in contatto con voi e si fidelizza. Adesso vi parlerei molto volentieri dello storytelling. e poi parleremo anche di argomenti apparentemente generici, ma che poi decliniamo nel vostro contesto. Lo storytelling è semplicemente raccontare la storia, la vostra storia. È l'arte di narrare. Esso viene impiegato in contesti differenti, quali quello aziendale o di impresa. Uno storytelling efficace è in grado di coinvolgere e creare legami emotivi con il pubblico a cui vuole rivolgersi. Una storia non è una cronaca, deve emozionare e coinvolgere. C'è molto da dire su questo. Allora, innanzitutto creare e raccontare storie è un qualcosa che affonda, è un gesto antico, esattamente nello stesso modo in cui profumarsi è un gesto antico. e attraverso i secoli quando non c'era ancora la tradizione scritta, la scrittura, la tradizione orale è stata quella che ha permesso all'uomo inteso come genere umano di andare avanti. Perché è importante raccontare una storia e raccontarla bene? La vostra storia, la storia della vostra azienda. Perché il cliente deve sapere chi è all'avanti, soprattutto se un prodotto è un prodotto di nicchia. che credo, suppongo, non vorremmo mai che venisse confuso con un prodotto commerciale. Voi di solito di nicchia non usate testimonial proprio per fatemi dire non svilire il prodotto. Sappiamo di avere a disposizione fragranze sublime e quindi a volte commettiamo l'errore di non pensare ad una comunicazione adeguata. Invece raccontare la storia del brand è essenziale. e anche non in modo sì alcuni vedo che utilizzano come mainstream le date i riferimenti sono importanti ma non è solo quello perché dovrebbe essere una storia che emoziona e coinvolge. Spesso mi è capitato lavorando con un brand di fragranze di nicchia mi sento dire cose diverse il tipo ma la nostra storia forse non è abbastanza non è abbastanza pill non è abbastanza antica non è così affascinante in realtà ogni brand ha una storia si tratta solo di raccontarla bene quello che io appunto amo chiamare il nice true telling cioè raccontare il vero e bene e un'altra cosa che mi viene chiesta sovente è quella di dire ma forse potremmo come dire usare un po' di creatività per rendere la nostra storia più attraente non sono certa che sia così io spesso lo sconsiglio questo perché il cliente soprattutto quello attuale quello che si rivolge ai vostri prodotti è sofisticato non è un cliente che sia contenta di vedere cosa che non è ma un testimonial per acquistare un brand quindi raccontate la vostra storia e cercate di farlo il meglio possibile come si costruisce uno storytelling in tre fasi cioè definire perché vogliamo raccontare una storia raccogliere ed elaborare tutte le informazioni necessarie per poterla raccontare bene non è che le useremo tutte ma intanto noi andiamo a creare cultura sul brand è una cultura che serve a noi internamente come azienda ai dipendenti che lavorano con noi perché aumenta il senso e definisce il senso di appartenenza all'azienda stessa è perché poi riusciamo a raccontarla nel modo migliore possibile e quello che dicevo prima è la stessa cosa declinata in modo diverso stabilire il target della vostra storia quindi stabilire a chi volete raccontarla perché poi cambiano le forme di narrazione ad esempio ah questa è una frase che non mi piace tanto cioè tutto è design ed è vero questo è un esimio collega Richard Farson che ha fondato è uno psicologo appunto ha fondato l'istituto di scienze comportamentali del western degli Stati Uniti d'America Occidentale però lui sostiene in alcuni dei suoi libri che tutto è design quindi noi dobbiamo non solo pensare a disegnare la nostra azienda nella sua macro struttura ma anche poi quando abbiamo davanti una fragranza abbiamo creato una fragranza meravigliosa pensare a cosa disegnare intorno ad essa e non solo packaging vorrei fare un breve elogio del packaging ho fatto un giro rapido poco fa e ho visto che ci sono aziende che veramente stanno facendo cose straordinarie sul packaging un packaging importante bello o essenziale pulito ma comunque di grande valore di per sé la definizione di packaging è riduttiva nel senso è la modalità di imballaggio e confezionamento mentre branding è l'insieme di attività strategiche e operative relative alla costruzione e alla gestione della marca allora qui ci sono scuole di pensiero molto diverse c'è chi sostiene che il packaging e il branding siano la stessa cosa e quindi vadano trattate nello stesso modo con la stessa attenzione per i particolari c'è chi invece sostiene che il packaging sia semplicemente questo i creativi sia semplicemente una parte del branding questo a noi interessa relativamente nel senso che al netto il packaging è determinante ecco citando e continuando a citare la coca cola facciamo anche un po' di la coca cola cola appartiene a quei brand definiti come packaged brand cioè addirittura è un marchio confezionato come si diceva prima se noi scorporassimo il logo i colori le confezioni avremmo ben poco tanto che è stata imitata in molti modi diversi ma all'ilà della bevanda di per sé nessuno ha raggiunto quel successo di immagine così forte e conosciuto dovunque questo è uno dei più importanti consulenti in branding e marketing Scott Davis e a proposito di branding lui afferma questo dice la marca è tra i più fondamentali valori di un'impresa e oggi le aziende intelligenti comprendono l'importanza di capitalizzare i valori dei propri marchi quanto si stava appunto dicendo poc'anzi queste aziende sanno che questi marchi sono quello che l'azienda fa e quello che l'azienda è questo secondo me è veramente il fulcro di questa citazione perché molto spesso il brand è e il brand fa perché poi il consumatore l'utilizzatore finale il cliente alla fine quando tiene in mano la confezione che contiene la vostra fragranza non sta a distinguere è un tutt'uno e quando entra in negozio in boutique nel negozio monomarca nei multistore se qualcuno di voi viene nel multistore lo riconosce proprio perché ha quelle caratteristiche esattamente come noi in ogni parte del mondo non abbiamo problemi a riconoscere una lattina o una bottiglia di coca cola ecco ci sono delle distinzioni nel packaging che accenniamo giusto per che il packaging primario che è il flacone o la bottiglia e il secondario la confezione e mi vorrei fermare un attimo dicendo un paio di cose sui flaconi e le bottiglie allora ovviamente il trend più attuale penso che poi è quello quello attuale è quello di avere un flacone molto bello sia all'esterno che all'interno è chiaro che questo ha dei costi non banali e anche dei tempi di lavorazione non ci sono degli assoluti qualche volta è anche consigliabile utilizzare soprattutto per delle start up o delle aziende che hanno iniziano ad affacciarsi nella nicchia di mercato dei flaconi fatemi dire standard che poi possono essere personalizzati e ho visto lavori meravigliosi fatti in tal senso questo ovviamente diminuisce i tempi limita i costi ma il risultato finale è notevole a questo proposito vorrei citarvi un esempio che è contiguo al vostro mondo che è quello dei liquori perché anche loro devono presentare i propri prodotti in flaconi in bottiglie c'è un'azienda europea che non cito ma oggettivamente si trova in una situazione diciamo delicata rischiava molto allora cosa ha fatto ha messo a punto un liquore straordinario di media qualità e ha puntato sul packaging quindi ha utilizzato una bottiglia standard che poi è stata decorata in modo straordinario come se fosse appunto a me appare molto un flacone di profumo e c'è da dire che quell'azienda c'è tuttora ed è in una situazione assolutamente fiorente mi ha colpito perché quella bottiglia di liquore assomiglia ad un grande formato di un flacone di profumo e per lo switch il cambiamento improvviso che c'è stato quando è entrata sul mercato quindi hanno dovuto cambiare anche molto della comunicazione però è stato un grandissimo successo il packaging secondario è la confezione ma anche il nome della fragranza è da considerarsi packaging perché è un nome che è impresso sulle confezioni ad esempio quindi il cliente non si pone questi problemi così più concettuali lui identifica quella confezione con il nome ad esempio qualora voi dovreste pensare di mettere a punto una fragranza diversa rispetto a quelle che generalmente proponete e magari anche con un nome fatemi dire esotico meno essenziale meno minimale attraverso la comunicazione lo storytelling e la comunicazione voi dovete comunicarlo questo al cliente perché è giusto sorprenderlo ma anche incuriosirlo ma anche renderlo partecipe delle vostre curiosità e dei vostri cambiamenti ecco il trend attuale era quello che si diceva e questo è un punto essenziale il packaging su misura ma il packaging design cioè di un flacone si differenzia a seconda di ciò che vuole trasmettere e dello stile di vita a cui fa riferimento un flacone è evocativo di tante cose anche di un lifestyle di uno stile di vita quindi ad esempio se voi volete comunicare una sensazione di lusso andate ad aggiungere volume al vostro packaging soprattutto del flacone e quindi della confezione se invece voi volete comunicare una sensazione di valore allora i volumi dovrebbero ridursi ecco io dico che c'è sempre una buona occasione nella storia di un brand per una meravigliosa edizione limitata il design del flacone deve essere coerente al brand quindi un brand che si presenta fa comunicazione in modo minimale essenziale eccetera mi auguro che non abbia poi un flacone barocco eccessivo pulento e viceversa una maison che produce fa profumi da decenni da sempre da secoli avrà un certo tipo di approccio al mercato però diciamo che lusso versus valore determina una differenza sostanziale fra i fraconi che voi potete pensare i vostri creativi di proporre questo è l'approccio che utilizzo io e che è lo psycho branding cioè l'unione e l'integrazione delle conoscenze psicologiche che riguardano i meccanismi di funzionamento mentale ma nel loro complesso cioè noi sappiamo molto bene quali sono le aree cerebrali che si attivano quando i clienti i consumatori vedono determinate cose ma non è sufficiente noi soprattutto parlando di profumi ma più in generale dobbiamo conoscere gli aspetti cognitivi ma anche le motivazioni le emozioni e poi studiare strategie di posizionamento e riposizionamento del branding ecco c'è una differenza fondamentale fra branding e ribranding e ho notato che ultimamente si fa parecchio di branding giustamente cioè quando un'azienda vuole cambiare la propria immagine allora decide che magari utilizza appunto un'occasione particolare per comunicare in modo diverso per uscire con nuove fragranze per cambiare il packaging per usare uno storytelling che abbia più appeal per raccontare meglio anche la storia delle fragranze perché noi avevamo parlato prima dello storytelling legato alle aziende ma anche i profumi hanno una storia non so se ci sono c'è qualcuno che sia un naso qui fra di noi ma spesso c'è una collaborazione stretta fra i nasi e la direzione creativa quindi in realtà è un lavoro più complesso di quello che noi romanticamente potremmo pensare ma si esce con un ribranding parziale non totale dell'azienda del brand perché sennò il consumatore è disorientato si trova davanti qualcosa che non riconosce allora in modo graduale si arriva a cambiare l'immagine dell'azienda la stessa cosa vale per il senso ribranding cioè alcuni si quasi inquietano perché è un qualcosa di relativamente nuovo tenete presente che se ne parla dal 2002 circa quindi è relativamente nuovo ma almeno da un punto di vista teorico negli ultimi anni negli ultimi 5 10 anni 5 soprattutto in modo più intensivo e massificato anche però fare il senso ribranding non vuol dire dall'oggi al domani stravolgere completamente l'identità di un'azienda sarebbe assolutamente controproducente noi non vogliamo consumatori o clienti disorientati o che si chiedano ma che fine ha fatto quel flacone che sì però non era attuale ma io la vedevo sulla toilette della mia mamma ad esempio ecco e arriviamo al senso ribranding applicato alla profumeria artistica chiedo scusa volevo fare un inciso sui nomi dei profumi che siano pronunciabili che abbiano appeal e raccontiamola la storia che c'è dietro perché quasi sempre stavo dicendo poc'anzi nascono questi profumi dalle ispirazioni che non sono sempre solo o almeno sarebbe bene che non fossero sempre solo dettate da un fatto fatemi dire cognitivo ma proprio emotivo perché sono quelli che riescono poi meglio e sono certa che molti di voi avranno degli esempi in questo senso a cui pensare quindi il nome di una fragranza va pensato perché si chiama cosa ci ha ispirati nel crearlo un paesaggio un'opera d'arte un quadro una tipologia di donna mi rivolgo alle donne in particolare perché lo storytelling mi permetto di dire decisamente affascinante in questo senso quindi raccontiamolo c'è uno storytelling che si declina sul brand e anche sui profumi su ogni singola fragranza che voi andate a creare adesso arriviamo ad accennare al senso ribranding applicato alla profumeria artistica teniamo a presente un paio di cose e cioè che quanto vi dirò è un qualcosa che è sostanzialmente generico perché ogni brand è unico e quando si fa senso ribranding veramente si va a spunciare tutto quanto riguardi l'azienda dagli aspetti storici a quelli economici alla comunicazione quindi noi diamo delle indicazioni di massima importante applicabili tranquillamente ciascuno nella propria realtà che poi possono essere davvero personalizzate a seconda appunto delle esigenze che l'azienda ha o dei desideratori ciò che desidera comunicare e a chi la creazione di ambienti morbidi e discreti cioè quando io personalmente ma penso ognuno di voi sento una fragranza io amo sentirla in un ambiente smooth morbido accogliente dove io mi sento bene ed è fondamentale questo direi la distinzione importante che farei è quella fra i negozi monomarca verso i multi department stores ovviamente il senso ribranding riesce in modo splendido nei monomarca perché lì si riesce a creare un ambiente su misura nei multi store bisogna qualche volta spesso adattarsi alle esigenze di tutto il resto degli altri brand dei consumatori lo vedremo poi con le luci con tutto il resto due variabili fondamentali che pochi almeno fra i miei colleghi tendono a ripetere come un mantra io ho un po' questo tratto ossessivo però temperatura e luce sono due cose importantissime non ha senso entrare e sentire gustare una fragranza con una temperatura polare quando fuori è estate o una temperatura tropicale quando fuori fa freddo anche perché c'è un discorso di molecole volatili che saturano un meno ambiente si altera la percezione ma soprattutto perché il nostro sistema nervoso non è tanto contento quindi gli sbalzi termici non so se spesso se c'è qualche addetto alla vendita qui presente è capitato di vendere bene un buon prodotto e di vedere il cliente piuttosto irritato davanti a sé e non capire cosa stia veramente succedendo sta succedendo o magari lo notate perché a un certo punto si spoglia o si veste a seconda che la temperatura non è quella giusta e la luce le luci bianche meravigliose scintillanti vanno benissimo quando voi dovete esporre dei prodotti ma se una persona ha la possibilità e poi ne parliamo tra poco ha la possibilità di fermarsi e sentire gustare delle fragranze allora a questo punto la luce deve essere morbida ci sono in commercio delle luci molto belle che simulano quella naturale perché l'occhio dopo pochissimo o meno di quanto si possa pensare siamo nell'ordine di una decina di minuti o poco più si affatica con le luci bianche e chi lavora in luoghi del genere lo sa molto bene in fondo l'occhio è già il nostro sistema nervoso quindi temperatura e luci la premessa al senso di branding applicato alla profumeria è che il nostro cervello apprezza e riconosce come piacevole ciò che ha una coerenza percettiva e cognitiva poi ne parliamo subito dopo ma se io dovesse entrare in un monomarca arredato con colori perché anche quello è arredamento assolutamente partello neutro e vedessi un punto di giallo percettivamente non è una bella sensazione ecco perché si parla di coerenza percettiva e cognitiva e cognitivamente perché direi ma in fondo non c'è grande sintonia grande continuità da un punto di vista cromatico quindi lo notiamo subito a meno che non sia fatto ad hoc per incuriosire o impressionare il cliente però i colori primari adesso lo vediamo non sono più quelli vincenti un tempo era così adesso siamo un po' più sofisticati tanto che ogni anno il nostro pantone pubblica ci fa sapere quali sono i colori dell'anno e sono mediamente sono sempre sfumature non so ma neanche i colori primari ecco stavo appunto dicendo questo mi siedo un attimo i colori dovrebbero essere coerenti con quelli utilizzati dal brand e non solo i colori degli ambienti ma anche l'abbigliamento degli addetti alla vendita nel senso che nei multistore di solito hanno una divisa quindi il problema non si pone però se voi riusciste a dare a chi vende un dress code almeno per quanto riguarda i colori per il discorso che facevo prima oppure se dovessi ipotizzare una monomarca di una start-up essenziale ma con colori di impatto credo che ad esempio io oggi vestita in beige non avrei grande successo cromaticamente intendo cioè verrei percepita come un qualcosa che si muove e abbastanza sganciato dal contesto questo è l'effetto che in psicologia si chiama figura a sfondo l'arredamento deve avere un design vicino ai valori del brand un brand di tradizione un brand classico un arredamento di tipo classico un brand invece appunto innovativo che propone qualcosa di assolutamente nuovo oppure una start-up delle linee pulite essenziali questo è invece un qualcosa davvero che sarebbe straordinario che ci fosse sempre anche se non sempre è possibile mi rendo conto uno spazio dedicato in cui i clienti possano sedersi per sentire in tranquillità le fragranze questo è fondamentale era proprio quello che si diceva prima se c'è una giusta temperatura una giusta luce se l'ambiente è sufficientemente morbido e accogliente e ci sono degli addetti alla vendita capaci questo fa sicuramente la differenza perché permette a chi vende di presentare bene la fragranza di interagire con il cliente di capire quali sono veramente i suoi gusti i suoi orientamenti esempi esempi di complemento d'arredo possibili allora ce n'è qualcuno che ogni brand può utilizzare e se dovessi pensare ad esempio direi fotografie che possono raccontare la storia dell'azienda quindi ad esempio con fotografie storiche se il brand è un brand storico oppure che si possano ispirare fotografie di clienti fra virgolette sempre famosi che acquistano le vostre fragranze oppure di icone del mondo dell'arte della cultura del cinema a cui il brand si può ispirare per quanto riguarda ad esempio l'esposizione di opere d'arte perché magari siamo dei dei cultori dell'arte dovrebbe essere esposta se è coerente con il brand se risponde solo a dei nostri gusti personali sarebbe meglio evitarlo perché non sappiamo di preciso veramente chi è tenete presente che è quello che ci auguriamo tutti quello di ampliare il nostro target e quando un cliente potenziale entra trova un mondo attorno a sé quindi un'opera d'arte io ho citato prima come esempio per quanto riguardava la luce gli impressionisti che mediamente piacciono a tutti o quantomeno non dispiacciono a nessuno poi se dovessimo però entrare nel dettaglio di opere diverse più complesse da capire che ci sia una certa coerenza quantomeno e non è solo un fatto cromatico ma proprio di cultura l'udito allora è consigliabile sempre della musica in filodiffusione ad un giusto grado di udibilità no a nessun tipo di radio in store anche se fosse la radio più raffinata con prodotti con programmi scusate di musica classica di opera perché non ci deve essere nessun tipo di parlato all'interno del negozio se non quello di chi vende e di chi acquista e tutto deve essere molto soffice morbido in fondo il mondo deve rimanere fuori il tatto il peso e la consistenza dei flaconi i materiali utilizzati per le confezioni la carta che tipo di carta ho visto qui oggi che ci sono dei package infatti con della carta molto bella raffinata le stoffe la seta il velluto l'organza tutto è tatto cioè l'esperienza multisensoriale è un'esperienza importante che noi in fondo amiamo fare in contesti diversi solo che non c'è una consapevolezza di questo ma se noi la creiamo in modo giusto e coerente con i brand nel rispetto anche del cliente nel senso andando incontro a quelle che sono le esigenze o i bisogni o i desideri del nostro target con grande rispetto è assolutamente sarà sicuramente fonte di successo questo è assolutamente pensiamo ad esempio agli Apple Store sono stati i primi a introdurre questi concept store dove noi si può andare toccare provare l'esperienza tattile è virtuosa e pensiamo anche a chi al di là di quello che ciascuno possa pensare della persona ma l'imprenditore cioè Steve Jobs è colui che fece non so se per noi non si capisce bene dalle biografie un corso di calligrafia e questo determinò poi un cambiamento estetico nel mondo dell'e-tech è stata una vera rivoluzione infatti esteticamente all'ilà delle interfacce che gli informatici mi dicono essere sovrapponibili però esteticamente il Mac è un bel oggetto il gusto per quanto riguarda il vostro mondo è delicatissimo perché se noi andassimo a proporre delle bevande o dei cibi caldi all'interno dei vostri negozi il rischio è quello di una saturazione dell'ambiente da parte delle molecole ma anche se andassimo a proporre dei cibi o delle bevande fredde ma per un motivo semplice per l'interconnessione che c'è ed esiste fra l'olfatto e il gusto quindi siccome sono interconnessi la capacità di uno diminuisce se l'altro è saturo se noi gustiamo il rischio che subito dopo sentiamo una fragranza la sentiamo alterata quindi è delicato è da studiare bisogna capire un attimo costi e benefici sicuramente è un branding che ad esempio fanno molte aziende di lusso di abbigliamento e che si può fare anche nel mondo delle fragranze bisogna trovare spazi e contesti in cui poterlo fare beh questa è una frase meno conosciuta ma nota di Proust che dice basta che un rumore un odore già uditi o respirati un tempo lo siano di nuovo nel passato e insieme nel presente reali senza essere attuali ideali senza essere astratti perché subito l'essenza permanente e solitamente nascosta delle cose sia liberata e il nostro vero io che talvolta da molto tempo sembrava molto anche se non lo era ovviamente questa è pura poesia ma l'olfatto ha attraversato la letteratura e attraversa costantemente le nostre vite vorrei dire anche che un profumo una fragranza non è solo quello che è molto di più perché appartiene comunque sempre alla nostra sfera emotiva un profumo è un lusso possibile ed è un sogno qualche volta sul quale noi possiamo proiettare i nostri desideri le nostre emozioni o anche dei tratti della nostra vita o di chi di chi ci ha accompagnato dei nostri genitori più o meno lunga ed è per questo che voi avete la possibilità e anch'io che in modo diverso vi lavoro insomma direi il privilegio di lavorare in un mercato affascinante e unico del suo genere perché gli altri mercati e lo sappiamo bene sono passibili sono soggetti ai trend del momento quindi vale per l'abbigliamento di massima anche le grandi meson seguono le tendenze vale in parte per l'arredamento vale per la tecnologia sicuramente però la fragranza è diverso perché nessuno si vuole omologare se voi ci fate caso quando si sentono dei profumi commerciali a volte in determinati periodi io ricordo nel fine anni 80 c'erano scie di determinati profumi che erano quelli magari nello stesso locale nello stesso ristorante eccetera mentre nel vostro settore le persone amano profumarsi non perché come a fine 700 accadeva non ci fossero altre alternative possibili attraenti ma perché amano differenziarsi sentendosi propriamente loro è una sorta di proiezione di sé e voi con la vostra azienda potete farlo in modo elegante impeccabile ma anche scolpendo il vostro brand mi verrebbe raspendere un paio di parole sui nasi che è vero hanno delle personalità complesse forti e anche fragili però sono coloro che ci permettono di ci hanno permesso ci permettono di vivere a distanza di tempo o di continuare a vivere storie d'amore importanti tormentate o meno tormentate percorsi di vita le nostre quelle degli altri per lungo tempo io vorrei ringraziare l'organizzazione che mi ha invitata vorrei ringraziare Paolo Marzi che mi è sempre di un grandissimo e valido aiuto e ringraziare tutti voi per l'attenzione grazie se c'è qualcuno che ha qualche domanda non sono stata sufficientemente chiara esaustiva no perché sono argomenti infiniti interessanti affascinanti ma importanti quindi se qualcuno di voi avesse qualche domanda o curiosità ben volentieri quante aziende hanno chiesto una competenza specifica quando si compriano vado da sera allora io ho mi scusi puoi ripetere la domanda certamente va bene allora dicevo quante aziende qui fuori o non qui fuori hanno ricorso al fai da te finora oppure si sono rivolte a studi magari specializzati allora finora io lo intendo fino a qualche anno fa fino a qualche anno fa parlo degli ultimi cinque anni all'incirca e ovviamente parlo per quella che è la mia scusate la mia esperienza personale aziende italiane un po' più all'estero però italiane da luoghi non credo così distanti lei è toscano suppongo sento le voci nel senso che sono abituata a sentire le voci quindi è molto delicato il suo accento ma aziende a volte anche a conduzione cioè con una gestione una tradizione familiare che però si sono rese conto soprattutto con le nuove generazioni che c'è bisogno di qualcos'altro quindi diciamo un 20% hanno fatto da sé e l'80% si sono rivolte a voi o l'opposto? no no delle statistiche così tenete presente come dicevo prima la sensorialità nel mondo delle fragranze è nuova perché voi avete già a che fare con un prodotto che è sensoriale per eccellenza quindi io posso parlare per quanto riguarda me non ho delle percentuali che possono riguardare altri consulenti e colleghi è un qualcosa di relativamente nuovo diciamo che la crisi che è arrivata se dobbiamo parlare di quello dal 2008 in poi ha fatto riflettere tutti e sono sfide importanti perché le alternative non sono attraenti cioè quando abbiamo a che fare e soprattutto quando più un prodotto è di valore o di lusso e più questo discorso diventa importante perché va a incontrare il cliente fidelizzandolo è molto etico anche non amo per quanto mi riguarda questo discorso assolutamente personale l'idea di applicarlo in modo scientifico ecco perché pur conoscendo gli studi di Lindstrom sul neuromarketing amo pensare ad un approccio globale in cui il potenziale cliente o il cliente venga pensato quindi con emozioni con motivazioni con il fatto che un determinato colore o packaging o formato vada ad eccitare alcune zone del sistema nervoso per me è poco eccitante da un punto di vista professionale lo è più disegnare intorno al brand un potenziale mercato oppure riposizionare il brand grazie mi chiedevo se anche la formazione delle diciamo delle insomma della vendita poi diretta possa far parte del tutta la concezione che c'è a monte del brand cioè perché alle volte c'è un lavoro appunto di insomma di branding molto molto importante per fare in modo che il prodotto che viene presentato abbia il giusto il giusto valore perché magari alle volte si parla di prezzi importanti ma che non deve essere giustificato siccome poi chi arriva a chi arriva al prodotto finale arriva tramite chi lo vende in realtà mi chiedo se in questo in quest'ottica anche di innovazione rispetto anche di dare un'alternativa diversa sia anche la formazione ma una formazione psicologica nel senso importante per chi si occupa della vendita perché se io cioè se io vendo il profumo lo vendo io che l'ho creato lo venderò in un modo ma chi questo l'ho visto anche qui comunque chi invece vende il profumo o comunque accompagna il creatore nella vendita del profumo userà già cioè sarà diverso a partire dalla terminologia quindi mi chiedo se ci sia anche un metodo non c'è un metodo però la formazione psicologica non estensiva cioè non una laurea in psicologia ma una formazione buona psicologica da parte di chi vende io la do per scontata e soprattutto che conosca bene il brand la sua storia perché poi la deve comunicare al cliente ha maggior ragione se il prodotto è un prodotto di lusso con un prezzo non banale perché poi appunto non deve giustificarlo perché se il lavoro viene ben fatto e ben condotto il cliente semplicemente acquista il prodotto non batte ciglio fatemi dire però una buona vendita centrata sul cliente è un presupposto essenziale quindi è chiaro che le fragranze devono essere spiegate soprattutto se sono di nicchia però c'è un'attenzione al cliente ma questo è un presupposto essenziale la formazione la può fare l'azienda al suo interno può comunicare agli addetti alla vendita quali sono i valori ecco tutto il discorso che si faceva prima sull'identità del brand devono essere resi partecipi di questi gli stessi dipendenti consulenti addetti alla vendita perché poi devono saperlo comunicare bene quindi sì la risposta banalmente sì date queste prevesse c'è qualcun altro? grazie a tutti per l'attenzione buona continuazione grazie a tutti